Dai Cesare! Dai Ivo! Dai, stai andando bene! Sto facendo un reportage! Ristoro, vai Cesare! Vado lì Cesare! Questo è tutto tuo eh! Gli altri li ho già staccati, ho detto a voi basta, vado a prendere Cesare! Dai! Domani? Come andava? Poca miseria, un cavallo era! Qua è meglio che guardo avanti prima che... Passa, passa! Poi vado a vedere se riesco a farvi una foto ciascuno! Bella Cesare! Però Cesare devi passare allo zello eh! Non mi piace quella maglietta lì! Eh Bernardo! Andiamo! Sì, vado a traguardo! Ah ok, ci vediamo lì allora! Che c'ho due macchine da vendere! Eh guarda chi c'è, guarda chi c'è! Quella! Ciao, ciao Ettore! Ciao, ciao! Eh Cesare ha fatto un'escursione agli amici! Che è canaglia qua! Eh? Ha fatto canaglia! Però mi piace la cosa! Sai, seguirvi in bici non è male eh! Vedervi soffrire così! Eh comunque mi sembra che occhi e croce sei sotto l'1.25 eh! Occhi e croce! Sì, forse sì! Però... Non so! Correvo per una ventisette! E anche Cesare non sta andando male! Cesare, Andrea non sta andando male! No, no, lo so! Hola! Vedrai che è filmato! Devo stare attento a non scontrarmi con qualche albero! Bella lì! Leale! Ciao, ciao! Ciao, ciao!